Nonno. Quando ero ragazzo chiesi a mio nonno. Nonno, chi è Dio? E nonno rispose. Dio è tutto ciò di cui non sappiamo darci una spiegazione. Dio è quell'essere che una volta che tu lo ha, avrai veramente capito. Ti farà sembrare tutto il resto di pochissima importanza. Adesso non potresti perché sei ancora piccolo, ma se crederai in Dio quando sarai grande, capirai. Quando divenni grande, mi resi conto che qualunque definizione di Dio era insufficiente per esprimere il concetto che io mi ero fatto di Dio. Commento. Le guide non attribuiscono a Dio una individualità o, peggio, una personalità. Per le guide Dio è uno stato di coscienza onnicomprensivo. Nel nostro stadio evolutivo, rispetto a Dio, noi siamo una goccia d'acqua nell'oceano. Ne facciamo parte, ma non ne siamo ancora coscienti. Per questo le guide chiamano Dio assoluto. Per questo le guide d'acqua nell'oceano è uno stato di coscienza. Per questo le guide d'acqua nell'oceano è uno stato di coscienza. Per questo le guide d'acqua nell'oceano è uno stato di coscienza.